I don't want you. Ora aspetti e mi dici cosa pensi di me. Vuoi che ti dica la verità? Un po' migno... Stai per dire mignota? Tutto sentito, sai? Anch'io desidero avere un compagno. Non mi adatto facilmente col primo che incontro per strada. Corri Lucia, corri Lucia, questa mammazza! E riserva molto buio nel locale. Allora? È stata lei. Scusa. A un certo punto mi ha messo una mano per... No, no! Mi ha scambiato per te. Quanto porti di piede? Prozza sette e mezzo. Me ne fa fare mamma su misura. Ah... Credimi, non c'è stato proprio niente fra di noi. Ci rivediamo, sì. No, 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 no. Ma perché hai fatto tutta questa scena? Sto aiutata a togliertelo di mezzo. L'abbiamo fatto quattro volte in meno di due ore. Quante? Ciao! Beh, una donna bloccata emotivamente. È un blocco di ghiaccio. Toccami come l'altra sera. Non vuoi che invece ti rimetto a posto la stanza? Io quello lo so fare bene. Me l'ha regalato un amico. E chi è questo amico? Uno con cui mi piace parlare. Sarà un amico del figlio. Ma che dici? Il suo figlio è grande, ha otto anni. Un nipote? Chiamalo nipote. Tu sei bella? Sei un fiore. Sei rilassata. Ti piace, eh? La cervicale, che non so chi sia questo, ma questo non lasciartelo scappare perché ti fa bene. Con te capisco molte cose. Anch'io. Io lo sapevo che prima o poi sei rifinito male presso te. Mamma! Mamma! Ma come ne vado? Il sesso non ti fa capire niente, però qualche indicazione la dà. Avevo azienza, dai. C'è il treno umano. E' filato nel rene. Oh, guarda! Oh, I wanted to lose.